Buongiorno, sono Simone Garulli, tecnico Immergas. Sono all'interno di uno dei nostri laboratori. Siamo qua per vedere insieme come risolvere da soli un piccolo inconveniente che può capitare con l'utilizzo normale della caldaia. Si tratta dell'errore E01 che significa mancata l'accensione. Quando la caldaia non si accende, spesso, è perché manca gas. Verificate il rubinetto del contatore che sia in posizione di apertura e, se ne avete la possibilità, provate ad accendere un fornello della cucina per averne la certezza. Una volta riaperto il rubinetto, eliminate il segnale di errore premendo il tasto RESET sul cruscotto della caldaia. Ricordiamo che, per ogni codice di errore che può comparire su un display di una caldaia Immergas, sul libretto istruzioni potete trovarne la descrizione e la modalità di risoluzione. Grazie per l'attenzione!